Non fanno sconti i 5 Stelle che parlano di situazioni caotiche che da sempre sono per il Senato elettivo. Ci sono Forza Italia e il PD che litigano ormai da mesi e non fanno capire ai cittadini a cosa serve la riforma del Senato. Noi crediamo che serva se fa risparmiare dei soldi ai cittadini. Abbiamo già votato mesi fa come Movimento 5 Stelle un disegno di legge che dimezza il numero dei parlamentari e riduce le indennità dei senatori. Mentre dal blog di Grillo nuovo attacco ad Alfano. 10 motivi per cacciarlo, scrive Di Battista, è il ministro più indecente del governo.